Musica 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 Justicia prossimo, nostro prossimo gobernador, nostro prossimo presidente municipal. Il séptimo eje è il campo queretano, il campo di corregidora, il ejido di corregidora, la piccola propietà della gente di corregidora. Vamos a lavorare con la gente che vogliamo che si stia in il campo, in il ejido, per che le famiglie hanno una economia digna, vamos a poner in marcha con la confianza di delas queretanas y los queretanos, el A por C. Me preguntan, Pancho, ¿qué es el A por C? Pues es tan simple como agricultura por contrato. Que el gobierno sea la herramienta de la cobertura de precios.